Da lunedì parte una nuova trasmissione che è sostanzialmente un corso di lingua italiana rivolto ai profughi ucraini, ospiti della nostra provincia. Vera è l'insegnante. Vera, com'è nato questo progetto? Questo progetto è nato per aiutare tutto il popolo ucraino che scappa dalla guerra e dar la mano per scoprire la bellezza della lingua italiana. E in questo momento posso dar la mano io per fare questo viaggio insieme. Dunque delle lezioni semplici che verranno distribuite anche nelle scuole italiane e a tutti i soggetti che ne facessero richiesta per imparare i rudimenti della lingua italiana. Sì, praticamente sarà un corso base della lingua italiana dove noi iniziamo a scoprire alfabetizzazione. A parte di questo anche le frasi quotidiane per aiutare la gente di parlare subito, di velocizzare il processo di apprendimento e parlare subito italiano. Perciò ho creato questo corso in modo molto leggero, ho fatto piccoli moduli dove noi impariamo a costruire le frasi e impariamo anche alfabetizzazione. In provincia ad oggi 160 piccoli ucraini nelle scuole che frequentano le scuole del VCO. Questo corso si rivolge a loro ma anche alle mamme e alle nonne che li hanno accompagnati qui in Italia. Sì, è vero. Noi abbiamo idea di divulgare tutti questi video, tutti questi dieci pillole, chiamiamo le pillole, tramite le scuole. Un progetto che nasce sotto l'egida della cabina di regia della prefettura del Verbano Cusiossola che coinvolge l'ufficio scolastico provinciale e Arsuni. Infatti voglio ringraziare la cabina di regia di tutti gli enti più importanti di VCO che danno questa opportunità bellissima per educare, per trasmettere la lingua italiana a tutti gli ucraini che arrivano questi giorni in Italia. Paccà, paccà! Ciao, ciao!